In quanto tempo chissà è casa popolare, mi vedo osservato da tutte le persone che affacciano dei balconi e io veramente non ci do confidenze, io veramente voglio bene a una che affaccia, che sta di rimpetto la mia palazzina. Perciò cerco di fidanzarmi, perché sto solo, perché sennò mi disturbano sempre. Io intanto continuo, diciamo noi, a guardarle a tutte queste belle signorine che affacciano, ma però sono scompasse tutte, non ci sono più, non affacciano più. Perciò quello che dico io, il mio sogno forse sbanerà, si allontanerà questo bellissimo pensiero di avere questa bellissima donna che sono veramente innamorato.